Ciao a tutti e benvenuti nel nono episodio della serie Varliamone, serie che giornata dopo giornata vado ad analizzare tutti gli episodi arbitrali più dubbi e discussi. Oggi, come detto, andiamo ad analizzare la nonna giornata, l'ultima giornata che si è giocata del nostro campionato, una giornata con arbitraggi non sempre sufficienti, troveremo varie insufficienze, alcune più gravi, altre meno, ma comunque ci sono anche degli arbitri che invece hanno tirato fuori un'ottima prestazione. Partiamo dalla prima gara che Sassuolo-Lazio, arbitrata da Di Bello, a cui abbiamo deciso di assegnare come voto se più un solo episodio, episodio che è stato deciso dal campo, ma dove poi il Var è intervenuto in modo corretto se stiamo parlando del cartellino rosso assegnato a Provvedel sul campo, poi con l'intervento del Var si sono accorti che l'intervento di Provvedel con le mani è nell'area di rigore, più precisamente è perfettamente sulla riga dell'area di rigore. Difficile vederlo dall'arbitro, soprattutto perché si trattava di un lancio lungo e quindi l'arbitro era molto lontano da dove Provvedel avrebbe potuto commettere questo fallo un po' più semplice la visione del guardalineo, ma anche in questo caso non semplicissimo visto che si trattava di un'azione non statica, anzi di un cambiamento di fronte avvenuto in modo repentino. Comunque poi il Var è intervenuto, ha visto bene Provvedel, è stato bravo e fortunato a non far uscire la palla dall'area di rigore, altrimenti poi sarebbe stato cartellino rosso e alla fine poi Di Bello l'ha chiusa con una sufficienza. Proseguiamo con Torino-Inter, arbitrata da Marchetti, a cui abbiamo deciso di affidare come voto 7-0. Buona prestazione anche per lui in questo caso, partendo dall'episodio più importante della gara che il rigore ha segnato all'Inter nei minuti di recupero, giusto perché Illic va a commettere un fallo netto. Unico errore è quello di non aver ammunito Illic, molto probabilmente sia perché la gara era finita, sia perché comunque il risultato era già ampiamente dalla parte dell'Inter, ma comunque questo non va a portare a un cambiamento di regolamento e quindi conseguentemente Illic avrebbe meritato il cartellino giallo, cartellino giallo che non è arrivato e che un po' poi ha fatto depenalizzare la prestazione di Marchetti. Altro episodio avvenuto sempre nell'area di rigore del Torino, ma in questo caso è stata giusta la decisione di non assegnare calcio di rigore proprio per i nerazzurri nel contatto avvenuto tra Sazzo e Lautaro Martinez dove il difensore del Torino prima va a colpire il pallone e poi va a colpire la gamba di Lautaro Martinez, ma in modo del tutto involontario per una conseguenza per l'azione che si è sviluppata. Quindi bravo Marchetti in questo caso a non assegnare calcio di rigore alla squadra nerazzurra. Proseguiamo poi con una gara molto negativa da parte dell'arbitro, stiamo parlando dell'arbitro Abisso che ha preso 5 più nella gara tra Elas Verona e Napoli. Due episodi e entrambi gli episodi sono risultati sbagliati. Partiamo dal primo che è quello del mancato calcio di rigore assegnato a Napoli nel contatto tra Davidovic e Raspadori dove Davidovic va a colpire certamente non con grande forza ma va a colpire in modo netto e abbastanza evidente Raspadori. Quindi in questo caso la decisione sarebbe stata quella di assegnare calcio di rigore. il VAR molto probabilmente non è intervenuto in questo caso sbagliando perché il contatto era leggero e molto probabilmente anche Abisso ha detto che il contatto lo ha visto lui ma la decisione più corretta in questo caso sarebbe stata quella di assegnare calcio di rigore al Napoli. Altro errore questa volta dal punto di vista disciplinare, il cartellino giallo dato a Bonazzoli è generoso perché avrebbe meritato il suo intervento, il cartellino rosso. E quindi nel caso fosse stato espulso il VAR non sarebbe intervenuto e sarebbe stata molto probabilmente la decisione più corretta. Proseguiamo poi con Milan Juventus arbitratta da Mariani a cui abbiamo deciso di assegnare come voto 6. Una gara che ha visto episodi importanti solamente dal punto di vista disciplinare e che è stata indirizzata molto probabilmente dalla decisione di Mariani visto poi il risultato e anche l'andamento della gara ma decisione di Mariani corretta perché il rosso perciao è netto trattenuta abbastanza ingenua da parte del difensore del Milan fallo che c'è, fallo da ultimo uomo più cammissibile visto la lontananza degli altri difensori, visto la direzione del pallone, visto che Keane oramai era già davanti al difensore del Milan. Quindi decisione di Mariani corretta ma dal punto di vista disciplinare una gara non sicuramente perfetta visto che nell'arco della gara manca un giallo sia per Locatelli sia per Krunic. Proseguiamo poi con un'altra gara dove non c'è una sufficienza, stiamo parlando di Atalanta-Genoa arbitratta da Marinelli a cui abbiamo deciso di assegnare come voto 5+. Un solo episodio stiamo parlando del gol di Lukman che è stato convalidato ma anche qui come neanche nella precedente giornata dove il Genoa si era affrontato col Milan c'è un possibile tocco di mani di Lukman. Le immagini non chiare vanno un'altra volta a penalizzare la squadra rosso-blu ma in questo caso Lukman sembra che tocchi il pallone conseguentemente anche se in modo involontario, anche se in caduta il gol sarebbe stato da annullare. Non c'è la certezza perché le immagini non sono chiare però per un movimento del braccio, per un pallone che si va a fermare lì quindi il contatto appunto col braccio dell'attaccante dell'Atalanta sembra esserci stato. Decisione dubbia che però va a penalizzare sicuramente il Genoa un'altra volta e che dove il Vare è anche intervenuto ma nonostante questo Marinelli sembra aver preso la decisione sbagliata. Proseguiamo con un'altra insufficienza, questa volta meno grave, stiamo parlando di Bologna-Frosinone arbitratta da Doveri a cui abbiamo deciso di segnare come voto 6-. Partiamo dall'episodio importante della gara che il calcio di rigore ha segnato Alfrosinone, giusto perché anche tra virgolette grave non averlo visto in campo perché il contatto è netto come si vede da queste immagini dove l'attaccante Alfrosinone va a essere colpito dopo il proprio cambio di direzione nettamente dal difensore del Bologna e quindi il calcio di rigore è più che netto buono l'intervento del VAR che ha salvato Doveri da questa decisione che però dal punto di vista disciplinare ha lasciato parecchi dubbi infatti entrambi i cartellini gialli dati a Mazzitelli sono eccessivi forse ce ne sarebbe stato mezzo sui due cartellini presi ma diciamo che il rosso per Mazzitelli è risultato eccessivo conseguentemente va a condizionare poi il voto di Doveri nella gara proseguiamo con l'arbitraggio che invece è stato sicuramente il migliore di questa giornata stiamo parlando di Salernitana Cagliari arbitrata da Kiffi a cui abbiamo deciso di assegnare come voto 8+. Partiamo dal primo episodio che il rigore giustamente ha segnato alla Salernitana con l'ausilio del VAR è difficile vederlo dal campo visto che si tratta di un tocco di mani del giocatore del Cagliari nascosto dal giocatore della Salernitana ma il rigore è netto come si vede da questo contatto il braccio di Viola è molto largo ed è quindi stato giusto sia l'intervento del VAR sia poi la concessione ufficiale del calcio di rigore una gara che però è stata piena di episodi andiamo ad analizzarli tutti partendo dal gol giustamente annullato al primo gol giustamente annullato di Luvumbo visto che poi ne ha segnati due uno convalidato e uno annullato giusto annullare il primo per fuorigioco è giusto convalidare invece il gol poi di Luvumbo perché non c'è nessun fallo nel precedente contatto tra Zappa e Martegani visto che Zappa va a colpire in modo corretto solamente il pallone altri episodi della gara sono un possibile calcio di rigore da segnare alla Salernitana per il tocco di braccio di Dossena che però non è punibile essendo molto vicino al corpo ed essendo poi facendo parte di un movimento congruo dal punto di vista disciplinare manca un giallo per Oristagno mentre sono giusti i cartellini gialli per De Iola, Castanos, Zappa e Prati sempre da parte della decisione corretta è giusto convalidare il primo gol di Dia sui due segnati anche in questo caso così come negli altri episodi della gara non c'è fuorigioco l'errore forse è l'episodio un po' più dubbio che poi per assurdo non si sono neanche scatenate troppo le proteste per questo ma più per il calcio di rigore che invece era più netto è un possibile rigore al Cagliari che non è stato assegnato e questa è sicuramente la decisione più sbagliata di questa gara un contatto avvenuto tra Cullibali e Prati dove la decisione più corretta sarebbe stata quella di assegnare calcio di rigore al Cagliari e ammonire conseguentemente il centrocampista della Salernitana decisione negativa che come detto prima però per assurdo la dirigenza del Cagliari non ci si è concentrata parecchio si è più concentrata sul calcio di rigore assegnato all'ultimo che abbiamo visto precedentemente per il tocco di mani di Viola ma le proteste forse sarebbero state più da indirizzare su questo episodio proseguiamo con Roma-Monza arbitrata dai Roldi a cui abbiamo chiude assegnare come voto 7- partiamo dall'episodio importante che il calcio di rigore giustamente non ha segnato alla Roma avvenuto nel contatto tra Lukaku e Carboni Carboni si ha rischiato parecchio perché con le mani va a va a ostacolare appunto Romelu Lukaku ma come si vede soprattutto dalla seconda e dalla terza immagine anche Lukaku utilizza le mani per cercare di liberarsi di Carboni decisione al limite ma decisione che ci può stare visto che anche Lukaku va a trattenere la maglia del giocatore del Monza sempre nella stessa gara partiamo dal punto di vista disciplinare partendo dal cartellino rosso dato ad Ambrosio per i due cartellini gialli giusti sicuramente il secondo è avvenuto a tanti metri di distanza dalla porta che appunto D'Ambrosio difendeva ma comunque ci può stare perché l'intervento è in ritardo e la decisione di Erodi è corretta resta qualche dubbio in più sul mancato cartellino giallo per Paredes concludiamo poi l'analisi della nonna giornata di Serie A con due gare che non hanno visto grossi episodi arbitrali partendo da Fiorentina a Empoli arbitrata da Dionisi a cui abbiamo deciso di segnare come voto 6 e concludendo con Udinese Lecce arbitrata da Tremolada a cui abbiamo deciso di segnare come voto 6 nonostante poi ci sia stato il calcio di rigore del segnare all'Udinese decisioni incorrette che hanno portato un voto sufficiente all'arbitro detto questo io spero che il video vi sia piaciuto noi ci rivediamo con un prossimo video sul canale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.